benissimo beh molto bello veramente bello noi invece parliamo di ictus allora diciamo che l'ictus purtroppo colpisce all'improvviso il vero problema inizialmente è quello di riconoscerlo perché se si interviene in tempo si salva non solo la vita ma anche diciamo così tutte le conseguenze possono essere meno gravi come facciamo a riconoscerlo però il riconoscimento dell'ictus è un problema è stato dimostrato che si arriva molto tardi in pronto soccorso dopo un ictus perché non crea dolore a differenza dell'infarto del cuore e quindi porta a trascurare i sintomi per semplificare riconoscimento è stata creata una sigla in inglese un acronimo le cui iniziali ci permettono di individuare i principali segni dell'ictus questo acronimo è fast che vuol dire presto perché quando ci sono questi segni bisogna andare presto immediatamente in pronto soccorso la f sta per faccia una improvvisa direzione della bocca è segno di un ischemia cerebrale a sta per arm arto braccio gamba un'improvvisa debolezza di un braccio una gamba è un segno di ictus s sta per speech parola una difficoltà a parlare o una difficoltà a capire quello che gli altri dicono è un segno di ictus infine l'attista per time abbiamo poco tempo da manifestarsi di questi segni per recarci in pronto soccorso e non bisogna trascurare questi segni anche quando sono di breve durata pochi minuti e un attacco ischemico transitorio che può precedere un ictus della stante devono esserci tutti contemporaneamente questi sintomi è sufficiente uno solo di questi segni per creare allarme ecco allora ma quali sono le conseguenze più comuni dell'ictus una paralisi una impossibilità a camminare una impossibilità a comunicare un disturbo del linguaggio un disturbo visivo un disturbo dell'equilibrio queste sono le conseguenze immediate poi vi sono le conseguenze a lunga distanza tra cui la spasticità cioè la rigidità degli arti la depressione la demenza ripetuti tu soprattutto possono portare ad una demenza però si possono recuperare le funzionalità perdute con una buona riabilitazione professore si è possibile almeno in parte perché il nostro cervello ha una netta tendenza a compensare in qualche modo per le funzioni perse e un buon programma di riabilitazione aiuta sicuramente in questo processo di recupero quali sono i centri più indicati per la riabilitazione bisogna dire che il livello della riabilitazione italia è generalmente molto elevato e la viene offerta praticamente a tutti questa possibilità certamente i centri universitari o i centri ics istituti ricoveri cura carattere scientifico sono più aperti alle innovazioni quindi hanno metodiche innovative come la realtà virtuale la robotica ma anche l'uso di metodiche un po meno diffuse sul territorio come l'uso della tossina botulinica per la spasticità abbiamo ancora qualche secondo per cui ripeterei perché è molto importante quali sono i segni di allarme dunque una bocca storta diciamo improvvisamente deviata ecco paralisi di un braccio di una gamba anche un senso di formicoli improvviso un braccio o una gamba difficoltà a parlare o a capire quello che gli altri ci stanno dicendo e subito bisogna intervenire chiamare il 118 o ricarsi immediatamente in un centro specializzato nella diagnosi nella terapia dell'ictus grazie grazie professore e adesso